All'Arena di Monza, però bolle in Monza, Reale Mutua, Fenera Chieri, è gara 1 dei quarti di finale, campionato vivo. E adesso tocca a parrocchiale ricevere, Larsson, mani out. Orro intanto manda di là con un tocco c'è De Bortoli, Villani, murone di Anna Danesi, Villani poi ancora Danesi. Ricezione di Gennari, parrocchiale la tiene su, va ad attaccare Banecchia a tutto braccio. Point, Grobella in battuta, ricezione di parrocchiale sulla testa di Orro, va da Larsson, questo è il punto che chiude il primo set. E intanto, ancora il murone di Anna Danesi. Orro in battuta, subito cercata Franti, trova lei in Selesia Orro. Buona ricezione di parrocchiale, Banecchia a media con l'aria stretta, difesa da De Bortoli, Franti la butta in mezzo al campo, Cazzotti di là, free ball per Monza. Parrocchiale Orro per la pipe di Jordan Larsson. Ricezione di Gennari, Orro per il pallonetto di Larsson. Una delizia di Jordan Larsson. La ricezione di parrocchiale, Orro spinge per Rettky, angola tanto. Ricezione di De Bortoli, Bozio per Alassan. Ricezione di Jordan Larsson, che poi va ad attaccare. 24-19, 5 set point Monza. Ricezione di Franti, Bozio per Alassan. La difesa in tuffo di parrocchiale. Poi Alassan pulisce tutto la rete per il punto numero 20. La ricezione di parrocchiale sulla testa di Orro, Gennari va sul profondo. 2-0 Monza, la chiude Alessia Gennari. C'è la difesa di Monza, Alassan a toccare l'attacco di Gennari. Si prolunga questo scambio, vanè che sulla diagonale c'è la difesa di Bozio. Mazzaro dalla panchina, la butta in mezzo. La può solo mandare in Agrobenna. Poi Larsson, Orro, Danesi. Va da Larsson e l'abbiamo già visto. Non sbaglia due volte di fila Jordan Larsson. Bozio, problemi in ricostruzione. Poi money out di Rettke su Mazzaro, 20-10. Spanekin battuta, la ricezione di Franti, la palla torna assoluta nel campo di Monza. Orro, parrocchiale, poi Larsson in parallela. Quella prima metà di primo set che lascia presagire tutt'altra gara. È stata poi cancellata una prestazione monstra. Le ragazze di Gaspari, l'errore di Franti. Ricezione di Franti, Bozio, palla dietro per Grobella. In parallela trova. Bozio dietro per Cazzotta. Che adesso va in battuta per Chieri. Ricezione parrocchiale sulla testa di Orro. Denaretchi in parallela. C'è la difesa di Armini. Franti da ferma. Ancora il muro di Monza. 24-12. Ricezione di Armini. Bozio per Franti. Va a segno Franti. Tredicesimo punto Chieri. Mazzaro in battuta. Ricezione parrocchiale. La palla torna di là. Poi ancora nel campo di Monza. Orro può scegliere. Va da Vanèche. Chiude lei. Finisce qua. 25-13. Sonoro. 3-0. E dichiarazione di intenti di Monza.